Che prospettiva ha per voi il mercato della consulenza indipendente? La consulenza in generale ha per noi un ruolo, svolge un ruolo molto importante. Si trova a vivere in questi ultimi tempi un trend molto molto robusto. Il 63% dei consulenti ha affermato che durante lo scorso anno ha beneficiato di una crescita notevole e importante di quello del proprio giro di affari. Le prospettive future, quelle per il prossimo anno, sono ancora verso questa direzione. Si pensa addirittura ad una crescita intorno al 10-11%. Sono cose importanti. Il ruolo della consulenza, ripeto, in generale è un ruolo molto importante di education, di accompagnamento, di aiuto agli investitori che finalmente ritornano ad essere il fulcro, il centro di questo scenario, di questo contesto degli investimenti. L'investitore ha necessità di provvedere a quelli che sono i propri impegni futuri, ha necessità di provvedere alla scolarizzazione dei propri figli, al pagamento del mutuo, alla propria pensione. In questo contesto il ruolo della consulenza va verso una maggiore e più opportuna costruzione di soluzioni di investimento e non soltanto nella direzione di una spasmotica ricerca di prodotto.